Viviamo Portoferraio con Mario Ferrari Sindaco ha incontrato la stampa per la presentazione ufficiale della lista. Molti candidati presenti e gli assenti lo erano per motivi di lavoro, così ha esordito il candidato a sindaco Mario Ferrari. Una lista eterogenea che attraverso le brevi dichiarazioni di tutti i presenti ha svelato i programmi e le intenzioni di ognuno in caso di vittoria. Ho cercato di mettere in piedi una lista che rappresentasse un po' tutte le componenti del comune, dal turismo alla parte che si occupa di eventi artistici e a chi ha avuto un'esperienza nel settore commerciale, soprattutto del centro storico. Tutti i miei membri, compresi i rappresentanti dello sport, sicuramente agricoltori, imprenditori agricoli, daranno un contributo a tutto campo. La campagna elettorale è ormai entrata nel vivo e di toni non sempre sono stati consoni alle aspettative. Perché qui siamo ad affrontare un percorso molto difficile per un obiettivo che è di interesse per tutti. Dobbiamo lavorare nell'interesse della collettività e del comune. I personalismi chi li vuol tirare fuori li tiri fuori. Io non rispondo perché non è questo il sistema di fare politica. Se si superano certi livelli e si va nella diffamazione pura, sicuramente adotteremo tutte le misure difensive nel rispetto della legge. A meno di dieci giorni dal giorno delle elezioni, qual è il sentore del candidato al sindaco? È la prima volta che partecipo senza tenere presente lo spirito di recuperten. Questa volta partecipo per vincere.